Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e di lasciare un like se questo video è stato utilissimo Oggi vi spiego come scaricare e riscattare gratuitamente Fallout New Vegas gratuitamente per i clienti Prime Andate su Prime Gaming Fallout New Vegas e scattatelo copiate il codice questo qui il codice fate copia e dobbiamo riscattarlo sul launcher GOG Galaxy Scaricatevi anche questo launcher che sarebbe questo qui GOG Galaxy o GOG Galaxy come lo chiamate questo qui Fate l'accesso fate la registrazione fate quello che dovete fare per entrare comunque questo launcher è molto utile Disegna soprattutto anche tutte le ore di gioco che hai totalizzato sul tuo pc sui tuoi account tutto ti totalizza questo launcher pure tutti i giochi che hai Quindi andate su impostazioni andiamo un attimo nella recente allora aggiungi gioco quindi redeem GOG codice questo qua e mettete il vostro codice fate copia su Prime Gaming poi fate ctrl v qui e fate continua Eccolo qui riscattalo ok e abbiamo il nostro gioco quindi dov'è la mia libreria Ecco tutta la mia libreria di giochi dove sta se lo trovo Fallout 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 dovete cercare Fallout che è meglio Ho il 3 perché l'hanno dato gratuitamente Epic eccolo qua Ultimate Edition però Comunque quindi se vi è stato utilissimo questo video ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao